Avvocato Esposito, avvocato dell'anno Elengas, il prezzo del pretolio è ancora volatile e sta scendendo e non si ferma. L'Italia saprà sfruttare questa situazione? Mi auguro di sì. Ci sono alcune aziende che sicuramente le energivore, che sicuramente ritrarranno beneficio, altre forse un po' meno. Non dimentichiamo che in Europa, in Italia in particolare, il prezzo del gas è anche legato al prezzo del petrolio per tutti i contratti take or pay e quindi questo avrà un impatto anche sulla generazione elettrica che nel nostro paese è fortemente basata su centrali termiche a gas. E quindi questo, ci auguriamo, comporti una riduzione possibilmente sensibile del prezzo dell'energia che beneficeranno le imprese. C'è da considerare che a fronte del calo del prezzo del gas c'è un apprezzamento del dollaro, valuta a cui è legato comunque il prezzo del petrolio, quindi anche quello del gas, e quindi questo in qualche modo riduce il beneficio per l'Europa e per i paesi dell'euro. In ogni caso un beneficio ci sarà e ci auguriamo sia consistente. Grazie Avvocato.